Che è successo allora? Si stanno chiamando da tutti d'Italia? Stiamo pronti a combattere, tanto la faccio che è un musso. Stiamo pronti a combattere. Vuoi assicurare tutti i tuoi parci che tu ci starai con Pio e Amedeo? Certo, sono i grandi amici. Ecco, con un sacco di amici, telefonate. Ci vediamo venerdì, va bene. Però magari che dè a Malone, loro dicono tutto oggi. Ciao, 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 ciao.